A risentire in particolare della crisi ordinaria e poi della crisi che si è sviluppata in seguito alla pandemia sono in particolare le piccole e medie imprese. Un campanello d'allarme che è d'essa preoccupazione? Assolutamente d'essa preoccupazione perché chiaramente al di là delle multinazionali poi il tessuto produttivo vero della regione è rappresentato dalle piccole e medie imprese e dalle imprese artigiane. Grossi campanelli d'allarme ci sono stati già, molte imprese non ce l'hanno fatta perché chiaramente hanno avuto difficoltà, molti lavoratori hanno perso quindi l'occupazione. C'è bisogno di intervenire, c'è bisogno di avere un'attenzione particolare rispetto agli artigiani e alle piccole e medie imprese, c'è bisogno che la stessa regione e a livello anche nazionale si abbia più attenzione quando si mettono in campo politiche anche innovative, cosa che bisognerà fare perché se non si riparte dalle piccole e medie imprese che sono, come abbiamo detto, proprio l'ossatura portante dei territori e anche delle aree interne, dei piccoli centri, rischiamo l'ulteriore isolamento di molti comuni e di molte realtà che vivono già a fatica. Da parte vostra cosa chiedete in particolare? Una maggiore interlocuzione ma non solo? Una maggiore interlocuzione ma soprattutto un'attenzione quando diciamo attenzione anche bandi specifici cosa che in parte ci sono ma in parte bisognerà costruire. Un'attenzione particolare perché è giusto dare una mano alle grandi aziende ma è altrettanto giusto dare un runnocchio di riguardo a queste piccole aziende che come dicevo rappresentano per davvero l'ossatura del territorio.